Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come A quanto pare, Manila Nazzaro prima di uscire dalla casa del GF VIP avrebbe sottratto e si sarebbe portata via un oggetto ben preciso Di che cosa si tratta? Manila Nazzaro ha ormai concluso la sua esperienza al grande fratello VIP da più di un mese Esperienza nella quale ha dato tutta se stessa, dimostrando sempre grande personalità, forza, grinta, educazione e rispetto Si è sempre mostrata gentile, accogliente e disponibile con tutti, pronta ad aiutare ogni coinquilino ne avesse bisogno Apporgere l'altra guancia, ad offrire una spalla su cui piangere o semplicemente pronta ad ascoltare nel momento del bisogno Manila Nazzaro.Insomma, l'ex Miss Italia è stata una delle protagoniste indiscusse di quest'ultima edizione, una delle concorrenti più amate e più apprezzate dal pubblico a casa Nel corso dei mesi si è anche raccontata a 360 gradi, parlando della sua vita, della sua sfera privata e aprendosi anche ad episodi molto riservati e delicati legati al passato Ma non solo, all'interno della casa del GF VIP, non è stata di supporto solo per i compagni in momenti di difficoltà o una grande protagonista Ha anche partecipato attivamente alla vita della casa, tra pulizie, ordine, ecc. E proprio per questo motivo, affezionandosi a diversi angoli, oggetti e cosine presenti in quella casa, alla fine ha deciso, prima di uscire dal reality, di portarsi via un oggetto ben preciso Di che cosa si tratta? Manila Nazzaro, cosa ha portato via dalla casa? Ogni concorrente che ha preso parte a quest'ultima edizione, ma come gli altri nelle precedenti, del grande fratello VIP ha portato via con sé qualcosa di importante Chi un'amicizia, chi un'amore, chi una maggior consapevolezza, chi la vittoria di alcune battaglie interiori, ecc. Insomma, tutti hanno appreso, imparato e portato via qualcosa da quelle mura domestiche Ma c'è anche chi oltre ad un bagaglio di esperienze e di consapevolezze personali si è portata via un oggetto ben preciso Questo è il caso di Manila Nazzaro. Ma che cosa si è portata via? La regia lo inquadrava sempre.Se l'indizio è che la regia lo inquadrava sempre, verrebbe subito in mente un oggetto ben preciso Si tratta del mitico cuscino con ritratta sopra il volto dell'amatissima Francesca Cipriani A rivelare che se l'era portato a casa era stata la stessa ex Miss Italia in una Instagram Stories di qualche tempo fa Ecco la foto incriminata.Grazie per aver guardato l'intero video Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao Ciao